Ciao amici, nei titoli dei miei video parlo spesso dell'amore, di cui non conosco il potere ancora. La portata, la portata che può servirti per realizzarti. L'immaginazione che scaturisce anche i fatti concreti, che ti porta il lavoro, i figli, qualche volta. Ma siccome io sono innamorato, sento che ne devo parlare. Anche se le mie frasi sono un po' enigmatiche, in quanto io vivo di un amore appunto enigmatico. Allora per lei ho composto questa suonata. Allora per lei ho composto questa suonata. Allora per lei ho composto questa suonata. Ma beia ciao tutte le mie ci.